Agenzia Contarini vi presenta la villa in stile rustico. La casa è disposta al piano terra dove troviamo tutta la zona giorno e al piano primo dove si trova tutta la zona notte. Ha ambienti grandi, luminosi, è libera ed abitabile subito. Il giardino è di dimensioni generose, l'ideale zona gioco per bambini ed animali. Il servizio in corpo staccato è arricchito da un bel barbecue ed anche le braciole sono servite. Nel sottotitolo trovate il numero di riferimento per richiedere informazioni ed il prezzo di vendita richiesto. Ed ora entriamo e vi mostro gli interni. L'ingresso ha una bella parete in mattoni a vista di colore chiaro che è evidente allo stile dell'abitazione. Un'ottima scelta, i materiali naturali sono un elemento principale che caratterizza lo stile rustico. L'accostamento tra mattoni a vista per interni e il ferro battuto dà vita ad una coppiata vincente. L'atmosfera e l'ambiente sembrano leggeri ed eleganti. Le tonalità neutre e chiare delle altre pareti alleggeriscono gli ambienti incrementando la luminosità. In linea con lo stile scelto sono i pavimenti in cotto e la bella cucina in muratura, ampia, abitabile, in continuità con il salotto, con un bel camino. Sempre a piano terra troviamo anche il bagno, il garage e un comodo ripostiglio. Ed ora saliamo al primo piano, dove il comodo corridoio ci accompagna alle tre camere da letto matrimoniali e all'originale bagno, disposto su due livelli. Per avere maggiori informazioni e per visitare l'immobile contattaci. Non dimenticarti di mettere il like sul video. Seguici sul canale YouTube Agenzia Contarini con tutti i video dei nostri immobili. Visita il nostro sito www.agenziacontarini.it dove trovi tutte le info sugli immobili in vendita. Segui la nostra pagina Facebook Agenzia Contarini ed il nostro postilo Instagram Agenzia Contarini. Ciao! Continua a seguirci! Ciao! Grazie a tutti.